Uè, Bilanista! Oggi battiamo il Bologna e din 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 ce ne andiamo in fuga! Primo tempo. Bilanista! Acerbi! Gol! 1-0! Passano pochi minuti. Bilanista! Toll! Lautaro! 2-0! Il Toro! Fine. Primo tempo. Rigore. Orsolini. Eh, vabbè. Ogni tanto anche agli altri dobbiamo dare un rigore, no? È finita lì, vabbè. Ma adesso tanto il secondo tempo. La nostra bella Ita gliene fa quattro al Bologna! Bilanista! Secondo tempo. Zirzi pareggia per il Bologna. Uuuuuh! Bilanista! Inzaghi out! Inzaghi out! Inzaghi out! La tua soddisfazione è il nostro miglior premio! Piripiri piripiri piripi! Volevano vincere! Volevano vincere! Ma l'hanno presa nel culo! Ma l'hanno presa nel culo! Ma l'hanno presa nel culo! Eh, nonno! Com'è che era? Sfrang! 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 E ci dicevano a noi che quando abbiamo vinto a Bologna la prima giornata 2-0, eh, 2-0 cortomuso! Bologna-Napoli 0-0! Bologna che doveva vincere Torino contro la Juventus ha fatto 1-1 con un rigore non dato, netto! E oggi 2-2! Questo fa capire che contro di voi, solo perché il palazzo ha voluto che perdessimo dopo 4 minuti, regalandovi il gol! Perché siete una squadra... Non mi fate dire la parola! Però, com'era la canzoncina quella lì? Ah, per... Ah, com'è, 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 com'è? E per la gente che... Andiamo a Istanbul! Internazionale non l'hai alzata tu! Orsolini te l'ha messa un'altra volta angurata! E dunque, e dunque, adesso tocca a noi, no? Vabbè, ovviamente il Milan... Cioè, vista la situazione, no? No, ma giustamente stasera il Milan non vince, non può vincere, ragazzi! Perché è matematico, è matematico! Io me la rido adesso, me la godo adesso, poi se vinciamo stasera faccio un macello! Ma adesso mi aspetto anche che i Curnut, il Torino, gli metta quattro corna pure la Juventus! Così sarebbe proprio un sabato qualunque, un sabato italiano, il resto sembra essere passato! Come inizio non c'è male! Uè, binterista, cartonato, ripescato dalla Serie B nel 21-22! Allora? Com'è, 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 com'è? Din, 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 din! La fuga? Eh, cominciate a scappare, che è meglio! Mua! Stelle! Stelle! Hahahaha! Eh, ahah!